Sabrina Ghio pronta a convolare a nozze di nuovo. L'ex ballerina di Amici, 36 anni, ha ricevuto una proposta romanticissima dal fidanzato trentenne Carlo Negri. La coppia è in vacanza in Puglia con Penelope, la figlia nata nel 2013 dal matrimonio di Sabrina con l'immobiliarista Federico Manzolli. Proprio nel giardino di una splendida masseria, Carlo si è inginocchiato tra le lacrime di Sabrina e la felicità soprattutto di Penelope, che è legatissima al compagno della madre. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!